Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il criceto è un piccolo roditore molto popolare come animale domestico. Questi animali sono noti per le loro guance estensibili, che utilizzano per trasportare il cibo e i materiali per il nido. Sono creature principalmente notturne e trascorrono la maggior parte del giorno a dormire nelle loro tane o nidi ben nascosti. I criceti variano in dimensione a seconda della specie, ma in media misurano tra i 20 e i 34 centimetri di lunghezza e pesano tra i 400 e i 700 grammi. Possono vivere fino a 8 anni, sebbene la durata media della vita sia generalmente più breve in natura a causa di predatori e altre minacce. Sono caratterizzati da un corpo tozzo, con una pelliccia che può variare in colore dal marrone al grigio, al bianco, e hanno piccole code. I criceti sono onnivori. La loro dieta comprende una varietà di semi, granaglie, piante e occasionalmente insetti. Questa dieta variata li aiuta a rimanere flessibili in diversi ambienti. Tuttavia, sono preda di una varietà di predatori, inclusi serpenti, uccelli rapaci e felini selvatici. La loro capacità di correre velocemente e nascondersi in piccole fessure li aiuta a sfuggire a molti predatori. I criceti sono diffusi in una vasta gamma di ambienti naturali, inclusi campi, terreni erbosi e praterie. Nonostante la loro popolarità come animali domestici, molte specie di criceti vivono allo stato selvatico in Europa, Asia e Medio Oriente. In natura, preferiscono ambienti che offrono abbondante cibo e opportunità per scavare le loro tane, come le aree con terreno morbido e copertura vegetale. in natura, nonostante la loro popolazione. Il nostro corso e tendo un pozz'e pericolo a semplici. Ottieni la loro popolazione un'attrofaccia di paracano. Abbiamo un pozz'e pericolo, ovvero i staccati di rarmi, anche un pozz'e pericolo, che sono state di rarmi, che sono state di rarmi, Grazie a tutti. Grazie a tutti.